mi sono appena svegliato e non trovo vinci vinci dove sei e non trovo neanche il nostro cagnolino sono da solo a casa sono da solo a casa ora posso mangiare tutto ciò che voglio e posso bere tutto ciò che voglio e posso giocare con tutto ciò che voglio ma ora sono molto annoiato sono molto annoiato mi manca vinci e mi manca il nostro cagnolino quindi ho bisogno del vostro aiuto ci siete se mettete mi piace a questo video fra tre secondi il nostro cagnolino tornerà 3 2 1 diavoletti è tornato il nostro cagnolino è tornato adesso se cliccate il tasto iscriviti vinci tornerà 3 2 1 vinci cosa ci faccio qui